Un saluto, ben ritrovati, come state? Di nuovo buona giornata da Milanello, la casa del Milano e dei milanisti su YouTube. Vi ricordo come sempre di iscrivervi, dai ragazzi, siamo tanti, siamo sempre più numerosi. Chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, o la terza se consideriamo il Monza. Iscrivetevi, mi raccomando, lasciate un like e commentate numerosi. Oggi straordinari, nel video di questa mattina vi dicevo, commentate se vi va firma, punto esclamativo, riferimento a Leao. Tantissimi firma, punto esclamativo, una sorta di petizione che poi gli facciamo arrivare. Grandi, grandi, grandi. Vi ricordo anche che potete visitare, se vi va, vi metto in descrizione il link, lo store di Milanello, dove c'è questa felpa, altri modelli, quelli con il cappuccio, diversi colori. Potete, insomma, vestirvi uguali ai vostri figli, ai vostri genitori, o a vostra moglie, tutti uguali in famiglia. Vi farò vedere, ad esempio, su Instagram, magari oggi, un collage con papà e figlio vestiti uguali, bellissimi, con la felpa di Milanello. Può essere una bella occasione per i regali di Natale. Allora, ragazzi, come va? Avete già fatto i regali di Natale? Io qualcosina? Detto questo, chi se ne frega, voi direte, avete ragione voi. Oggi, prima giornata, senza le partite dei mondiali, perché ieri si è chiuso il quadro con la vittoria di 6-1 del Portogallo, il gol di Rafa Leao, che ha una media incredibile, ripeto, un gol ogni 33 minuti in questo mondiale, che lo sta vedendo da protagonista. Possiamo fare un piccolo bilancio e andiamo sul grande sogno, almeno per quanto mi riguarda. Un piccolo bilancio, ecco, dei nostri, innanzitutto, diciamo che, spunta verde, o meglio, sorriso verde per Giroud, tre gol, record dei gol con la Francia. Sorriso verde per Teo Hernandez, due assist. Sorriso, non so come, per Leao. Verde perché ha fatto due gol, rosso perché non gioca mai titolare. Diciamo che ha una faccia neutra gialla, tendente però al verde. Rossa per Giroud, che, insomma, è stato eliminato, ha anche dei problemini, lo sappiamo dal punto di vista fisico. Balloturea, anche lui, ha giocato solo uno spezzone perché, appunto, aveva l'infortunio e poi è stato eliminato. Poi, 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 chi mi sto dimenticando? Sto facendo un po' tutta la fase. Sì, è rosso sicuramente per The Kettler, ha eliminato col Belgio e appena un quarto d'ora di gioco e che credo di averli, insomma, passati un po' in rassegna tutti. Ora ne abbiamo ancora tre in gioco. Tra quelli che giocano in Italia, sicuramente i milanisti sono tra i più protagonisti, va detto. Detto questo, su Leao abbiamo detto, sul rinnovo, vibrazioni più positive, tanti segnali, tanti spifferi, ovviamente aspettiamo una fumata bianca. Però, ecco, I have a dream. Il primo sogno, il primo sogno riguarda, appunto, in qualche modo anche Leao, perché con Leao si sta parlando e dietro a Leao c'è sicuramente l'avvocato Ted Dinvulà, c'è Papa Antonio, fai la cosa giusta, consiglia la cosa giusta, cioè rinnovare Leao al Milan. Ma c'è anche Mendes, con cui Maldini e Massara hanno avuto una sorta di contatto, di incontro, proprio a Dubai la scorsa settimana. Si è parlato di Leao, evidentemente. I have a dream, perché guardate un po', rimpianto sicuramente pacchettà, ci sono altre situazioni, in cui a volte ci è andata bene, a volte è andata male, lo dicevo in un video la scorsa settimana, oggi ribadisco, non solo per la partita che ha fatto ieri, ma il mio sogno è che in qualche modo Mendes possa favorire un'operazione con Diogo Dalot, del quale non è effettivamente il rappresentante. Però sappiamo che lui, insomma, ha tanti poteri un po' su tutti i portoghesi. Diogo Dalot mi piacerebbe molto rivederlo al Milan, lui ha fatto due presenze e un assist in questa manifestazione con il Portogallo. In generale mi sembra sia facendo, insomma, prestazioni di alto livello. Ieri, insomma, è una partita molto buona. Per me lui è uno dei rimpianti, forse è il grande rimpianto, non lo so, ce ne sono altri. Però, 23 anni, parametro zero, se non rinnova Columniati da un parametro zero. Sinceramente, ecco, è un sogno, faccio anche un po' un appello qui. Una volta Massara ci ha detto che delle volte vengono delle idee, leggendo anche quello che dicono o scrivono i giornalisti. Non abbiamo sicuramente la presunzione di mettere la pulce nell'orecchio, però, condividendo con voi, mi piacerebbe molto rivedere Diogo Dalot al Milan, perché sarebbe perfetto. Faccia destra e faccia sinistra, in un colpo solo, se tu riesci a prenderlo, se non riusciamo a tenere Dest, che secondo me nel 2023 diventerà una bella rivelazione per il Milan. Hai il giocatore che ha più spinta rispetto a Calabria sulla fascia destra, ti puoi alternare. Hai il giocatore che si può alternare con Teor Nade sulla fascia sinistra. Il giocatore che, magari se giochiamo a 3 in un 3-5-2 può essere perfetto come quinto. È un parametro zero, conosce benissimo il mondo Milan, è molto legato a Leao. C'è già stato, non ha bisogno di ambientarsi. Per me, lui, sarebbe un grande colpo. E visto che qualcosa dobbiamo farlo, è un parametro zero, magari è la tassa che in qualche modo ci può favorire il nuovo di Leao, anche se, ripeto, Mendes non è direttamente il suo agente. Mi piacerebbe molto e ve la butto lì, perché secondo me è un'occasione. Detto che, dopo anche un mondiale di questo tipo, secondo me lui può ambire anche a ingaggi importanti, quindi quello rischia di fare la differenza. Ma c'è il decreto crescita, lo ricordiamo, visto che è più da due anni fuori. Rispetto all'Italia. Poi, vedendo un po' ragionando insieme a voce alta, ad esempio, ha fatto fin qui un mondiale da protagonista a Marabat con il suo Marocco. Il Marocco in generale, complimenti, chapeau. Devo dire che a me sembra che sia un giocatore di grande personalità, che sia alzando il livello della consapevolezza a tratti davvero dominante, con un'usuberanza di personalità fisica, tecnica, di visione di gioco non indifferente. E, visto che noi qualcosa dobbiamo fare a centrocampo, secondo me lui sarebbe un giocatore che potrebbe fare il caso nostro come terzo titolare. A me piace tanto, da tempo. A 26 anni, è rappresentato dalla Stellar, con cui abbiamo ottimi rapporti. Magari ci dedicheremo un video rispetto a questa, tra virgolette, partnership che potremmo avere. Ecco, rispetto alle indicazioni di quelli che seguivamo, a Marabat, secondo me, è spunta verde, è un sorriso, è una freccia verde che vale in su. A differenza di Okafor, che invece ha fatto un mondiale deludente, ha giocato poco anche per via di un infortunio, ma è sempre stato riserva, è entrato, non ha dato mai la scossa. Se lo si vuole prendere, secondo me questo potrebbe essere il momento buono, perché la valutazione scende, il contratto scade il 2024, quindi adesso ogni estate va via. Se però ci basiamo sul mondiale, quindi la massima manifestazione, Okaforra non ha dato risposte positive. Poi il dirigente non guarda solo il mondiale, guarda tante partite che ha seguito da vicino, con osservatori, eccetera, eccetera. Però, se commentiamo questo segmento del mondiale, no good. Poi, a proposito di giocatori attenzionati, lasciatemi dire che non è promosso, è stra-promosso a Kim Ziyech, del quale, però, ecco, abbiamo letto tanti commenti. E se è così forte perché il Chelsea non lo fa giocare, è un giocatore finito, nelle scorse settimane, è bollito, non ha più voglia. Ragazzi, che mondiale sta facendo? Che mondiale sta facendo? E ci fa capire come la motivazione e il contesto faccia la differenza. Là lui è un corpo estraneo. Nel Marocco è una delle anime, e guardate che mondiale sta facendo. In generale, la squadra, giocatore che ha fatto un gol e un assist in quattro partite, fa la differenza sempre. Sulla destra, al Milan, insomma, ne parliamo da tempo, ci farebbe fare, secondo me, un salto di qualità davvero importante. È chiaro che, se si volevano risposte da lui, sono risposte molto positive. Se si voleva capire, ma è ancora motivato, è ancora in grado di fare la differenza, la risposta è stata assolutamente sì, con due punti esclamativi. Dall'altra parte, rovescio della medaglia, con un mondiale del genere, secondo me, sarà meno disposto a rinunciare a dei soldi, che è la condizione fondamentale per poter approdare al Milan. Dall'altra parte, c'è il rischio che arrivino club più importanti perché lui si è messo in vetrina, ha scommesso su se stesso, e questa scommessa comunque andranno le prossime partite, o soltanto la prossima, nel quarto di finale, la vinta. Il giocatore è davvero forte, 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 che rientra sinceramente nei miei sogni. Dopodiché ci sono poi sogni irraggiungibili, Vardyol, ad esempio, ha fatto un mondiale pazzesco ma è fuori portata, pare che il Real offra 90 milioni di euro per lui. Ci sono altri giocatori sicuramente, però ecco, quelli un po' più seguiti e attenzionati, devo dire che sono questi. E il mio grande sogno, se posso andare di fantasia in questo momento e se ho carta bianca, da lot che ci stessi, ci stema fascia a destra e fascia a sinistra. Amrabat, che può essere il vice Ben Nasser, anche se non è identico. Dopodiché Ziyec, ecco questi tre, vi dico questi tre, con Ocafor che, basandoci sul mondiale, non ha fatto obiettivamente bene. Questa è la mia riflessione, che volevo condividere con voi a voce alta. Ditemi che cosa ne pensate, mi raccomando. Iscrivetevi sul logo di Milanello, chi non si iscrive, ti fa la seconda squadra di Milano, lasciate un bel like, commentate e se volete affrettatevi, fare un regalo per voi, per la vostra famiglia, tutti uguali magari a Natale con la felpa di Milanello, pretendo forse un po' troppo, magari per l'ultimo dell'anno. Milanello.com, qui sotto c'è il link, vi invito se vi va anche a iscrivervi al mio secondo canale, che vi metto qui sotto nella descrizione. Vi rimando al video di questa mattina, firma, punto esclamativo, commentate così. Un abbraccio, ci vediamo dopo.